...e questo documentale esclusivo, Juan Pablo I, morte o asesinato? Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Alvino Luciani murio la madrugada del 29 de settembre de 1978, apenas 33 dias despues di aver asumido il papado con il nome di Juan Pablo I. Su morte conmociono al mondo entero. Il Vaticano dice che si aveva tratato di un infarto, ma la versione officiale fu in immediato posa in dubbio e il scendolo piso la santa sede, un scendolo che ancora oggi sacude a la Iglesia. La Biblia dice che la vera e la vera e la vera e la vera e la vera è liberta. La vera e la vera e la vera è la vera che il popolo ha forgotten di aver guardato lì. Diciamo, dovremmo direzionarlo a quello. Ma c'è molto vera. Diciamo, cosa si dice Luciani nel libro, durante questi 28 giorni, ha detto che ho trovato due cose in scendio di parte del Vaticano. La vera è la vera e la vera è la vera e la vera è una buona coppa di coffee. La vera e la vera è la vera e la vera e la vera è la vera e la vera. di quel momento. Io vorrei ricordare per esempio che Luciani che aveva questa fede molto tradizionale però aveva preso una posizione pubblicamente aperta in favore della pillola quando nel 68 si parlò del tema della contraccezione. Oppure aveva delle idee molto chiare per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. Perché tiene questa attitudine il Vaticano di falta di trasparenza? Io credo che perché sta ocultando qualcosa, qualcosa di importante. E sono questi scandolosi negozi vaticano. Juan Pablo I aveva sempre una attitudine contro la desmedita accumulazione di riqueza che esercia il Vaticano. E luchò durante tutta la sua carriera per una Iglesia humilde, apartata dei settori più conservatori del catolicismo. Un uomo che ha mostrato un aspetto di un Dio misericordioso, dolce, comprensivo, amabile, nitte. Abbiamo bisogno di queste figure che ogni tanto non ci fanno dire ma in che brutto mondo siamo capitati. Tutti arrabbiati, tutti superbi, tutti vogliosi di chissà che cosa. Stava disposto a vivere il Evangelio come Papa, non solo a cumplire il concilio, ma a vivere il Evangelio con sencillez. Tenendo in cuenta ese compromiso e esos enfrentamenti, la morte súbita di Juan Pablo I trajo a parezzi di maniera inevitabile molti interroganti e un alto numero di ipotesi contradictorias. Per quanto riguarda la morte di Papa Luciani c'è chi dice che è stato assassinato. C'è chi risponde che questa è una leggenda del tutto impossibile che venga assassinato un Papa. A chi risponde così io dico, ricordiamoci che soltanto tre anni dopo al Papa successivo stavano per assassinarlo in Piazza San Pietro. Alvino Luciani era una persona che, da jove, aveva una vita saludabile e deportista. Realizzava exercicios fisicos, extensi passei in bicicleta, caminata per le montagne e si cuidava le comune. Alvino Luciani era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona che sufre pocos infartos, che tiene pocos problemi di hemorragia, non solo cerebrali, sino sobre qualche altro organo. Che non realizzava comidas copiosas, che non aveva antecedenti di arteriosclerosis o, perlomeno, paràmetros bioquímicos in la sangria che nos hicieran pensar in cui potrebbe avere colesterolo alto, triglicéridos alti, acido grasso alti, in modo che ci potrebbe complicare un po' il stato delle arterie e delle vene. Era una persona che gozava, al parecer, según los ultimos reconocimientos che se le realizaron poco antes del fallecimiento, di buona salute, in general. Però hubo un detalle che non tenia che ver con dietas, exercicios e medicamentos. Juan Pablo I, al mes di asumir, già tenia previsto tomar decisiones radicales relacionadas con la politica economica del Vaticano. Para Albino Luchani era importante el ejemplo de la Iglesia. El que la Iglesia pudiera aparecer mezclada en negocios y en escándalos económicos, no solamente asuntos económicos, sino escándalos económicos, para Juan Pablo I era muy importante. El 28 de septiembre de 1978, il Papa aveva tenido un arduo día di lavoro, antes di passare a la capilla per le sue orazioni nocturne. Juan Pablo I cenò di maniera frugal junto a sus más cercanos collaboratori. E se la stessa in cui sarebbe morto, sono cose che io ho già detto, senza mantenere segreti, ha accusato dei peorori qui, al petto. L'ha detto a noi, alla mamma tavola, verso le otto di sera. Poi ha detto, li sento, ma sono passati. Abbiamo detto, chiamiamo il medico, no, no, dice, non c'è bisogno, sto meglio, sto meglio e sto meglio. Poi l'abbiamo accompagnato in camera, verso le nove. Abbiamo detto, senta, se questa notte avessi bisogno di aiuto, sotto il letto c'è, noi diciamo in italiano, un pulsante, un switch. You can get it, you can move it, you can call us. But he was calm, and he said, as he went into his bedroom, they said, we'll see you tomorrow, holy father, and he used the Italian for, if God allows, and closed the door. Il Papa solía despertarse todos los días a las 4 de la mañana, pero esa madrugada, las cosas cambiaron. suor Vicenzina Taffarell, che, quando, non lo vide, all'appuntamento solito, in cappella, per la celebratoria della Messa, alle 5 del mattino, si preoccupò, andò a bussare un'altra volta, vide questa sottina di caffè, che è già fredda, e il Papa dunque non è riuscito a bere un caffè. En torno a la muerte de Juan Pablo I, la primera hipótesis que se dio fue la oficial, o el diagnóstico oficial, de infarto agudo de miocardio. I. I A. I. I. I.